Guarda queste colline, cogli il loro incanto, una serie di schiene allungate che si succedono parallele le une alle altre, con piccoli villaggi sparsi lungo valli strette o arroccati sulle creste. Osserva l'aspra morfologia dei pendii, scenario di drammatica bellezza. Sono il dono che la natura ha concesso a queste genti del nord-est. E ora guarda cosa ne hanno tratto e dimmi, hai mai visto un talento simile? Nel ricoprire il paesaggio di vigneti, nel disporli con sapienza per intercettare al meglio i raggi del sole, nell'adattarsi alle pendenze estreme di questi versanti. Inventando il sistema dei ciglioni, di terrazzamenti stretti ed erbosi con cui da secoli si coltiva la vite su queste colline. Pensa al lavoro delle mani, alla fatica che si tramanda. A questa viticoltura eroica che il tempo non ha cambiato. Per secoli qui, gli sforzi compiuti dall'uomo, hanno plasmato il paesaggio. Che al tuo sguardo si rivela oggi come un singolare mosaico di vigneti che avvolgono le colline, circondati da piccoli boschi e insediamenti umani. Esito sublime di processi ambientali e utilizzo del territorio. Paesaggio rurale che il mondo ha scelto come testimone dell'armonia tra l'uomo e la natura. Scrigno di valori che soltanto il lavoro di queste genti potrà preservare. Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.